Mamma, è di sopra? Sì. Ciao, amore. Sai, abbiamo 45 minuti prima di andare a prendere Tom e Jennifer. Un'altra bottiglia? Se ne porta un'altra? Non lo so, non credo che... Attenso! No! Sono passato con Rosso. E ho ucciso Tom. Se accetto di patteggiare, mi daranno due anni e otto mesi. No, ci difenderemo. Se non lo faremo, mi daranno sette anni. È stato un incidente. Non so che hai paura, anch'io ne avrei. Ma devi sapere una cosa. In carcere non c'è distinzione di reato. Ti ritroverai insieme ai peggiori criminali e che ti piaccia o no, ti metteranno alla prova. L'uomo che stai per incontrare ha le chiavi di questo posto. Trattalo con rispetto. L'unica cosa che conta qui dentro sono io. La sicurezza è un prezzo. Ti sporcherai le mani come tutti noi. Benvenuto nella fratellanza. Perché hai partecipato alla rissa? Voi avete le vostre regole, noi quelle della fratellanza. Per me contano di più. Progettano posti come questo per distruggere uomini come noi. Glielo permetterai. Adesso comando io. Ti avevo detto di non portarlo. Per me contano io. E se lo controllano le謝謝... Arbor di continuazione. Vio non portarlo. rosis. Paolo Grazie a tutti.